...facciamo un applauso per Cristo Gliatti, 48 del via mixtino. Alla prima curva, signore e signori, nella categoria G1, G2, numero 359, era un metà, mi capisco, mi raccomando, per un rettino vicino a Garlate, sono in opposizione per la città e maniere, signore, numero 83, William Alcavere, Kingia Rinks, Verona, al terzo posto, ancora Vittorio Sama, con Paglia, la regola di Vittorio Sama, al terzo posto, con Martini, 6,4, a Spallina, nel termine 5,6,8, l'idea che mi sarà, Vittorio, in questa batteria, la finale soffera, allora che stai? Vai l'edo, vai l'edo, vai l'edo!